Buongiorno, pace e bene. Oggi 29 marzo ricordiamo Santa Gledis. Ascoltiamo la sua storia. La vita di questa regina gallese, vissuta tra il V e il VI secolo, la conosciamo grazie a due racconti medievali. Quella del marito San Guelli e quella del figlio San Cadoc. Gledis era la maggiore delle 24 figlie, di due genitori santi. Secondo la vita a Gunlei, venne data in sposa al sovrano del Galles Meridionale, Guelli. E secondo la vita a Cadoci, a causa della sua bellezza straordinaria, Gledis fece invaghire lo stesso sovrano. Il padre della santa, però, avrebbe acconsentito al matrimonio solo se il re pagano si fosse battezzato e convertito alla religione cristiana. Ma il re, aiutato dal re Arthur, rapì la giovane che non si oppose al rapitore perché visse la violenza subita come fosse un martirio. Nacquero diversi figli, tra cui Cadoc. La vita a Cadoci, inoltre, descrive la non esemplarità dei primi anni del loro matrimonio. Ma poi Gledis convertì Gwenlei al cristianesimo, che si battezzò sposando cristianamente la regina e abbandonò per sempre le armi. Così si ritirò con la moglie in preghiera per purificare la sua anima. In una visione, Dio mostrò ai due sposi il posto dove stabilirsi. Da allora vissero in astinenza di peccato. Si bagnavano nelle gelide acque di un fiume per allontanare le tentazioni del peccato carnale. Praticavano una vita ascetica e si cibavano solo di poche erbe. Su consiglio del figlio Cadoc, per non cadere in tentazione, si allontanarono ancora di più. Gledis fondò una chiesa in onore della Vergine e morì il 29 marzo. La loro opera di evangelizzazione e cristianizzazione del Galles venne continuata dal figlio Cadoc, che in seguito sarà proclamato santo. La loro festa è il 29 marzo, data della morte di Gledis, e i loro nomi sono tutt'oggi ricordati in varie chiese e pozzi del Galles meridionale. Quello che è successo a Santa Gledis, possiamo dire, è un po' agghiacciante. Pensiamo, lei figlia, insieme ad altri 24, è una famiglia molto molto numerosa, bellissima, e quindi cade nelle attenzioni di un altro nobile, un altro re, molto molto potente. Il papà vuole consentire a questo matrimonio, però mette una condizione e dice a quest'altro re che si deve battezzare. Però questo re rifiuta e con l'arroganza, con la potenza, insieme a 300 uomini, va, rapisce Gledis e la porta con sé, obbligandola a questa relazione, questa relazione non voluta. Qual è la reazione di Gledis? Ecco, vive tutto ciò come martirio, proprio perché è nato da una richiesta di fede. E questo martirio interiore avrà i suoi frutti, perché questo marito scellerato, questo marito violento, ecco, poi si convertirà e diventerà anche lui santo. Una storia pazzesca, se vogliamo, anche impossibile da digerire ai tempi nostri. Una donna che accetta un matrimonio non voluto per il bene di questo marito violento. C'è tanto da riflettere. Io chiederei a tutti voi di approfondire questa storia, proprio nelle sue contraddizioni. E anche la nostra vita, da questo punto di vista. Vedete, il martirio è la capacità di rinunciare a se stessi per il bene degli altri. E non è semplice. Proprio magari in quelle situazioni nelle quali noi punteremo i piedi e di forza esigeremo la nostra giustizia, che è una giustizia, ecco, forse in quelle situazioni, quando noi rinunciamo a questa giustizia, effettivamente lasciamo il potere allo Spirito Santo di operare. E il nostro sacrificio agli occhi del Signore è molto prezioso. Guardiamo un po' la nostra vita da questo punto di vista. e magari riusciremo a scoprire qualche situazione in cui, con un piccolo nostro martirio, possiamo avere veramente la chiave di svolta di alcune situazioni molto brutte per altre persone. Allora ci affidiamo all'intercessione di questa Santa molto speciale. Santa Gladys, prega per noi.